oh sì perché se passi per cinceniche la prima cosa che fai è sclamare o perbacco senti all'operbacco la prima cosa che fai guardi le bariste dici o le bariste se poi incontri il ticcio dici o ciao ciccio ben trovato buongiorno a tutti cristian de biasio siamo nel come lo chiami magazzino dell'operbacco nella futura cucina bellissimo qui dentro dove siamo partiti dieci anni fa ci sono i profumi meravigliosi qui di buono di buono senti sono venuto a trovarti perché si tornano filo di cinceniche quando come perché ritorniamo il 23 novembre questa volta di sabato perché la tratta è stata fatta di domenica qualcuno ha avuto problemi il giorno dopo che ha festeggiato un po troppo allora quest'anno lo facciamo di sabato così c'è un giorno per recuperare il giorno di recupero ci sta tutto quest'anno abbiamo cambiato il format abbiamo deciso di puntare sui vini rossi e vini bianchi fermi avremo la bellezza dei 26 stand che rappresenteranno le 20 regioni d'italia cento vini cento vini in degustazione tra cui amarone marone di serra barolo barbaresco quindi linee importanti a tanti autoctoni quindi anche l'opportunità di scoprire vitrini nuovi mai bevuti veramente molto interessanti tutto abbinato comunque a un angolo salumi e formaggi sempre fisso per l'andata dell'evento e in più ci sono dei appuntamenti gastronomici abbiamo sette appuntamenti con sette regioni insieme alla macerie a costa come sempre l'allo immancabile l'allo immancabile il partner è ufficiale da sempre e sarà una giornata molto intensa che poi si concluderà allo perbacco con morgana battaglia dalle 18 gran festone allo perbacco abbiamo bromance gene night nuovo gene di agave e quello l'arancio e frutti di bosco che si festeggia la manetta ospite d'onore anche quest'anno c'è un grande gardini che arriva al noffino molto gasato motivato perché adesso sta realizzando anche una masterclass apposta per per l'evento davvero molto molto importante avere l'appoggio di uno dei migliori sommelier al mondo diciamo bisogna dire siamo fortunati senti per prenotarsi per chi lo vuole fare come deve fare quanto tempo a come funziona allora prenotare basta chiamare il 3 4 8 2 7 7 9 1 3 5 e vi prenota e bisogna versare una capara entro il 10 di novembre metà dell'evento 40 euro e se no quel giorno la si entra se c'è posto però non perso superiore primo bisogna trovare il posto e secondo si paga qualcosa di più quindi la prenotazione importantissima ripetiamo il numero ciccio 2 3 3 4 8 2 7 7 9 1 3 5 ci vediamo al no filo e vi aspetto